Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Screencast-O-Matic, che è uno screen recorder e un video editor. Nella casella di ricerca di Google scriviamo Screencast-O-Matic e clicchiamo su Screencast-O-Matic, Screen recorder and video editor, che è la prima scelta. Ci porta al sito, il sito bisogna registrarsi, io sono già come vedete registrata e quando farete Start Recording for Free vi chiederà di scaricare il lancer. Io il lancer l'ho pure scaricato, quindi Start Recording for Free, Lance Free Recorder, vedete che si apre la finestra per aprire lo screen recorder lancer, clicco su questo e adesso mi compare la casella del registra. In questa casella ho diverse opzioni, di registrare solo lo schermo e non la webcam, di registrare entrambi. Sto registrando entrambi, con entrambi io, la durata massima della registrazione è per la versione Free di 15 minuti, poi mi chiede di scegliere la dimensione dello schermo, io ho scelto la dimensione di schermo intero e poi nelle preferenze potete andare a settare una serie di preferenze, soprattutto sapere che con il tasto Alt più P della tastiera si mette in pausa la registrazione, questa è un'utilità molto utile, quindi ci sono una serie di settaggi che possono essere fatti da preferenze. do l'ok, ora posso iniziare la registrazione, ma prima di farlo chiudo questa finestra di istruzioni e di settaggio. Chiudo la finestra, con il tasto rosso avvio la registrazione. Questa è una registrazione di prova per realizzare un tutorial che possa essere utile nell'uso didattico di Screencast O-Matic. Ora penso di aver finito la mia registrazione, ma volevo anche dirvi che se non fossi soddisfatto della registrazione, perché qualcosa magari è andato storto, potrei cliccare sul secchiello, elimina tutto e ricomincia e ricominciare a registrare. Sono soddisfatto di questa registrazione, quindi clicco su fatto e ho la possibilità di salvare e di fare upload oppure di modificare il video. Vado in salva, decido di salvare e di fare upload, mi si apre una finestra e ho delle opzioni, posso salvare il file che ho realizzato come video, vedete, fa il video, posso eseguire l'upload su Screencast O-Matic di questo video o posso eseguire l'upload diretto su YouTube. La cosa migliore da farsi è sempre quella di salvare come fa il video sul proprio PC. Vi ricordo che non sempre l'upload diretto da qui su YouTube riesce bene, quindi conviene prima salvare il file video sul proprio PC e poi fare l'upload del proprio PC sul proprio PC su YouTube, quindi faccio salva come fa il video e qui il nome del file posso cambiare il nome, quindi metto solo Screen, mp4, poi posso anche individuare la cartella dove salvare il mio file con Esplora, ecco, e quindi vado oppure salva sul desktop, ok, oppure scelgo un'altra cartella, insomma posso scegliere altre cartelle in cui salvare documenti, ho questo PC, io ad esempio potrei salvare in data, che ho un altro disco, vabbè, e posso salvare in D, ad esempio, qui, magari nella cartella del corso sui video, scusate, salvo qui, ok, e poi mi chiede di pubblicare il mio video, ossia di salvarlo, pubblica e in un attimo dovrebbe essere salvato perché questo video è molto breve, quindi il tempo per il rendering dovrebbe essere breve, mi dà la possibilità di riprodurre il video per vederlo, di esplorare la cartella, di copiare il percorso prima di cliccare su fatto, riproduco il video. Ecco, come vedete, quindi la registrazione è venuta e posso cliccare su fatto e con fatto la mia registrazione viene salvata sul PC. Volevo dirvi che è utilissimo Screencast-O-Matic dal punto di vista didattico per creare video registrazioni di lezioni, per preparare tutorial, presentazioni, per condividere documenti con i propri studenti. e si possono utilizzare anche per presentare tutte le funzioni del browser se si condivide proprio la finestra intera. Ecco, vi saluto e spero che questo tutorial vi sia stato utile. Buonasera.